Il Centro Colibri, fondato da Margherita Hack, nel sottoscritto inaugurato da Piero Angela, oggi esiste solo grazie a Vittorio Sgarbi, che ha saputo con coraggio, con vero coraggio, determinazione, con un po' di incoscienza, salvarlo, e se oggi i colibri sono vivi è merito suo. Per questo, per la prima volta nella mia vita, decido di schierarmi e vi chiedo di non fare casini e di votare Sgarbi. Grazie a tutti.